amici ciao a tutti oggi una nuova avventura con sergio e papà ok è successo un forte temporale nella giornata di ieri adesso dobbiamo intervenire con i nostri mezzi speciali camion ed escavatore per risolvere il problema perché c'è stata un'emergenza sono crollati dei rami degli alberi sopra la strada principale e adesso interveniamo per risolvere il problema vieni 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 scendiamo piano 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 vai avanti e parcheggi qua e poi così da tutti il contrario tutti il contrario che dobbiamo scendere di là marci indietro marci indietro ecco qua adesso abbiamo parcheggiato il camion e dobbiamo provare a scendere il nostro escavatore si piano piano papà no 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 dietro dietro un po' alla volta no disastro si è ribaltato va bene ma risolviamo subito piano 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 puoi togliere un attimo il camion e lo sposti un attimo più sopra che è successo sistema sistema tutto ci deve mettere la catena dopo non è che faccio io e sto raccogliendo tutti quanti i rami qua è successo un disastro questo temporale ripetiamo vediamo vediamo perfetto eh fai manovra vai abbiamo raccolto tutti quanti i rami tutti i trucchi degli alberi adesso fai manovra e puoi procedere vai a scaricare adesso va scaricare giù nel garage aspetta che li porto sopra adesso bisogna fare qua una buca per far scorrere l'acqua adesso dobbiamo fare una buca procediamo con la buca dai la sveglia dorme subito e vado a posare i tronchi intanto no in salita cadono i tronchi ok ok ecco si fa avvicini il camion che dobbiamo recuperare tutti i massi tutti i massi per fare la buca ecco qua abbiamo recuperato deve essere pieno pienissimo ok stiamo procedendo da più bene ok adesso solleviamo se lo stai facendo se non sei così adatto a vivere delle scavature ottimo ottimo ecco qua ottimo vai guarda devo mettere tre pietre recuperate siamo pronti stai? si prontissimi io questo intanto la metto qua la metto qua ancora pietre si parirà anche un po' di musica grazie 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 wow non sai proprio un bravo a guidare lo scavatore no perché scusa perché scusa non sai i bussanti dove dove devono andare non c'è la massiglia non c'è dove si scava capito ci sono gli alberi qua che dobbiamo abbattere no ci sono degli alberi che dobbiamo abbattere ma certo che no secondo me sì dai buttiamoli giù buttiamoli giù ma che cazzo stai facendo ti dobbiamo buttare giù gli alberi scusa tutti questi alberelli qua vanno tutti quanti buttati giù perché? perché sono morti morti da qui non c'è una montagna di pietre fino alla targa anche un po' la gomma le gomme sto riempendo di pietre ma la storia sto riempendo wow ma la storia sto riempendo ragazzi è così incredibile ragazzi è così incredibile è una cosa incredibile è una cosa incredibile è una cosa incredibile madonna madonna santa c'è un muccio qua di pietre la fisca scai uomo scai scai come un muccio qua scai come un muccio qua ok papà abbiamo finito lavori allora se abbiamo completato sergio come procedi stai combinando il solito disastro imprigionato adesso dobbiamo chiamare il l'escavatore dobbiamo chiamare l'escavatore sergio allora vogliamo dire ai nostri amici se vi è piaciuto il video pollicione e la cosa più importante iscrivetevi al canale appuntamento con il prossimo video ciao a tutti